La Commissione Europea ha pubblicato il 12 dicembre 2023 il nuovo programma per l'AC Accelerator. L'AC Accelerator è il programma di finanziamento della Commissione Europea che va a supportare quelle scale-up Deep Tech che hanno necessità di fondi per scalare velocemente sui mercati internazionali. Troverai comunque in descrizione un link che ti fornisce maggiore informazioni sul funzionamento di questo strumento. Le novità introdotte sono molto importanti e andranno sensibilmente ad impattare sulle percentuali di successo dei progetti che verranno presentati nelle prossime call. Prima novità, il budget è stato sensibilmente ridotto da circa un miliardo di euro a 670 milioni di euro. Questo porterà a una sensibile diminuzione delle proposte finanziate. Numero 2, ci saranno solamente due call nell'arco del 2024, una a marzo ed una ad ottobre. È necessario quindi prepararsi molto bene per non sprecare le pochissime cut-off che vengono programmate. Importantissimo, per poter accedere alla full application, dalla short application, saranno necessari non più due go ma addirittura tre go. Quindi tre valutatori su quattro dovranno ritenere la proposta adatta per poter essere presentata come full proposal. Quarto elemento molto importante, nel caso in cui una proposta riceva due go e un solo no go, la commissione convocherà un consensus meeting per fare in modo di evitare che solamente un parere contrario di un valutatore possa bloccare l'intera proposta. Numero 5, molto importante, nel caso in cui una proposta riceva in una qualsiasi delle fasi di valutazione dell'ACS Rator un rifiuto, non potrà più presentare la stessa proposta fino alla prossima programmazione. È quindi necessario pianificare, programmare molto bene la partecipazione all'ACS Rator e soprattutto effettuare una valutazione preliminare per capire se l'ACS sia lo strumento più adatto per il tuo progetto di impresa. Per qualsiasi informazione puoi contattarci ai link che ti lascio in descrizione.